Abbiamo ripreso oggi, dopo due giorni di riposo alla fine della partita di Conegliano, abbiamo ancora qualche piccolo acciacco di qualche giocatrice, però contiamo di essere in forma per l'inizio dei pre-off che sono fra otto giorni. Pesaro, Bologna, che tipo di due squadre sono? Sono due squadre molto complicate, sia Bologna che Pesaro, perché tutti e due stanno giocando una buona pallavolo. Credo che noi dovremmo essere molto attenti fin dalla prima partita, perché queste qui sono partite da dentro fuori, per cui ci vorrà tanta concentrazione, tanta tranquillità e abbiamo la possibilità di preparare bene le partite, per cui siamo abbastanza fiduciosi. Diceva Aciacchi che è da recuperare, reparto infermeria, quindi come sta andando, l'infortunio della Sansonna? Abbiamo ancora l'infortunio della Sansonna da recuperare, pensavamo di poterla cominciare a fare questa settimana, invece dobbiamo ancora avere un po' di pazienza. Niente, insomma, qualche piccolo problemino con Martina, ma sicuramente domani è già pronta per annarsi.